ciao ariete benvenuto da goldi unicorn art allora andiamo un po vedere quale può essere la tua sorpresa che magari stai attendendo da tempo ariete ricordati che questo video vale sia per il tuo segno zodiacale per il tuo ascendente per la tua luna o per la tua venere allora vediamo qui la prima carta per te è un momento che il tuo fuoco sarà un pochino spento ma questo non è detto che sia un male comunque qui abbiamo l'elemento acqua che ti dice che stai per fluire che stai per andare da qualche parte che stai facendo una pulizia profonda chissà magari stai pensando di fare una scelta magari io con le amicizie o con le tue frequentazioni qui c'è la vita che ti può anche inondare travolgere no questa è l'onda proprio no come l'onda del mare così e quindi arriva qualcosa che ti va a toccare proprio una tua particolare sensibilità quindi questa è la prima cosa andiamo a vedere adesso togliamo questa queste queste carte e andiamo un po a vedere adesso che cosa per esempio ti può accadere qui rimaniamo nell'energia generale quindi nel prossimo periodo tu ariete sarei diciamo più calmo mi viene da dire più calmo ma è una calma molto produttiva è qui quindi l'acqua spegne il fuoco ecco perché ti ho detto così è comunque qui andiamo un po a vedere cosa ti succede qual è la tua sorpresa o le sorprese potrebbero anche essere di più di una allora molti di voi sono un po tormentati in questo momento c'è qualche problema che diciamo che non riesce ad essere risolto per alcuni potrà essere un problema di sentimentale per alcuni invece potrebbe essere un problema di amore fatto sta che secondo me questa onda mi viene da dire arriva a spazzare via questo problema tanto è vero che vedi che dopo aver fatto un po di pulizia che tu farai in modo normale qui arrivano proprio le stelle a indicarti la strada oppure avrai semplicemente un'ispirazione dentro di te quindi qui adesso tu hai ancora diciamo queste sensazioni di turbamento è dentro di te però questo non vuol dire che non passino perché secondo me questa onda arriva proprio a prepararti il terreno per la tua sorpresa che non sappiamo ancora qual è però diciamo che le carte ti stanno dicendo guarda a riete che sta per succedere qualcosa sta per cambiare tu che di solito prendi la vita di petto diciamo no e comunque hai molta forza interiore molto coraggio è come se appunto entrassi in una fase della tua vita adesso da adesso che guardi questo video perché questo è un video senza tempo quindi nel momento in cui capiti qui questo è un messaggio diciamo per te e vedo che appunto riuscirai a essere più calma e a raggiungere i tuoi obiettivi molti obiettivi sono lavorativi oppure sono progettuali per voi poi non mancheranno naturalmente anche delle novità d'amore per chi li aspetta eh quindi qui io vedo delle grandi soddisfazioni soprattutto su di te su di te questa stesa si riferisce proprio a te a qualcosa dove ti vuoi sentire vincente dove ti vuoi sentire valoroso dove ti vuoi sentire meglio diciamo vediamo un po di metterci ancora qualche carta per capire quindi comunque grande soddisfazione riprendi essere più calmo non vuol dire che tu hai meno energia eh riete vuol dire semplicemente che riprendi un tuo moto diciamo grintoso senza le preoccupazioni ecco quindi vediamo ancora cosa succede qual è la sorpresa e qui parlano proprio comunque di denari e quindi molti di voi avranno grande grande soddisfazione ma poi la cosa bella è che tu ridiventi forte perché ogni tanto tu perdi apparentemente naturalmente solo apparentemente la tua forza comunque ci sono anche delle piccole soddisfazioni nel quotidiano che possono riguardare anche altre piccole cose comunque un cambiamento c'è proprio tuo è proprio tuo di te che stai guardando quindi qui a un certo punto tu a riete la sorpresa è che avrai a che fare con una persona importante questa persona importante può avere a che fare sia col tuo lavoro se tu stai pensando per esempio più al lavoro chiediti che cosa ti sta preoccupando in questo momento perché c'è qualcosa come hanno detto all'inizio che tu devi lasciare andare perché qualcosa ti preoccupa quindi qui arriva una persona importante quindi per molti di voi potrebbe essere di lavoro potrebbe essere qualcosa di lavoro per molti di voi potrebbero essere sorprese amici che si fanno sentire dopo tanto tempo però poi arriva la persona importante qui adesso le carte non stanno specificando l'amore stanno pensando che arriva la persona importante per te quindi chi è per te la tua persona importante in questo momento è una persona di lavoro allora sarà è una persona d'amore allora sarà allora vediamo un po cosa fa questa persona importante vediamo un po allora questa persona importante ti dice anche una cosa importante quindi non è solo che viene e ti dice qualcosa ti dice qualcosa che tu aspetti da tempo ti guarda molto dritto negli occhi questa persona e ti dice guarda che voglio fare questa cosa insieme a te quindi se è ripeto per chi sta pensando al lavoro è lavoro che per chi sta pensando all'amore è l'amore perché fino adesso qui la stesa vuole rimanere su di te su di te a riete cioè la sorpresa della vita ma non ti preoccupare che ti prenderò ancora altre carte perché non è finita la stesa però qui intanto incominciano a dire non solo che cambierai in meglio perché ritroverai la tua forza ma che riuscirai ad avere delle soddisfazioni piccole e grandi proprio perché starai meglio e poi arriva questa persona importante che tu aspetti evidentemente chiunque essa sia questa persona quindi questa persona importante arriva e ti darà grande soddisfazione mi viene da dire che tu aspettavi questa soddisfazione che sta per arrivare forse è già in parte questa la tua perché tu eri un po preoccupato questa è la carta della preoccupazione ultimamente tu a riete eri preoccupato per qualcosa e hai pregato affinché questa cosa avvenisse quindi tu sai bene quali quali sono le tue preghiere ognuno di voi pregherà qualcosa o qualcuno ha indagato hai ricercato hai esplorato quindi ad un certo punto non ti sentivi bene perché avevi tutte queste preoccupazioni che abbiamo visto che l'onda toglie toglie via quindi qui secondo me adesso non ti prendo un altro mazzo per dirti bene però qui la cosa importante è che la cosa che ti stava preoccupando a riete si scioglie cambia qualcosa cambia un po tutto no quindi vediamo adesso andiamo proprio a vedere quindi questo direi che è già la sorpresa il tuo cambiamento e l'incontro con questa persona importante importante per te o di lavoro o di amore questa persona che ti guarderà dritto negli occhi quindi non è un incontro così questa carta vuole parlare quindi la prendiamo quindi non è un incontro così basato sul nulla è un incontro per te importante perché sarà un incontro fatidico mi viene da dire ecco allora qui che cosa abbiamo qui abbiamo degli qui abbiamo una carta che ti che ha un nome un po tu avevi un malessere con una persona questa carta ti dice che questo malessere se ne va perché tu avevi potevi avere proprio da questa situazione di cui hanno parlato un'energia non tanto bella forse sei stato o sei stata invidiato ultimamente quindi c'è qualcosa che non è stato bello diciamo per te no e potresti anche aver avuto appunto delle influenze negative ecco perché probabilmente questa persona per te è così importante mi viene proprio da dire che hai avuto delle influenze negative che però se ne vanno questa è la cosa importante questa è la tua bella sorpresa è perché c'è proprio un'energia trasformativa quindi è proprio come se ci fosse l'energia da negativa che diventa positiva quindi ci saranno delle cose anche che farà parte sempre della tua sorpresa che verranno alla luce tu adesso non lo sai ma verranno alla luce cioè la luce proprio viene arriva proprio per farti capire le cose che non riuscivi a capire prima quindi io ti posso dire che tu hai avuto un buon intuito perché questa è anche la carta della chiaroveggenza quindi hai avuto una buona sensazione ecco perché forse all'inizio ti dicevano guarda che allontanerai delle persone quindi probabilmente tu allontanerai delle persone ti sentirei rilassato e finalmente o rilassata e finalmente incontrerai questa persona importante che guardando diritto negli occhi ti dirà delle cose che tu volevi tu sai quali sono queste cose le cose che tu volevi che ti aspetti quindi proprio sarai molto soddisfatto che sia lavoro o che sia amore quindi direi che la stesa ti ha detto proprio tutto quindi io per concluderla ti prendo un oracolo per concludere l'energia bella decisa mi viene da dire questa è un'energia decisa come piace a te riete quindi ti prendo una carta dell'oracolo animali viene lo spirito della volpe che ti dice si pronto perché questa carta parla di reagisci con prontezza ma secondo me ti sta dicendo si pronto perché stanno per cambiare le cose perché se tu sei pronto cambiano prima in sostanza questo ti dicono quindi carissimi a riete o ascendente a riete o l'uno venere in a riete ciao a tutti a presto un abbraccio